Carlo è stata una persona che ha mosso emozioni nel corso di questi sette anni, amore e odio. Io sono arrivata non con l'idea di rimpiazzarlo perché credo sia praticamente impossibile, ma con l'idea di proporre me stessa, credo di essere molto diversa e forse in questa differenza ci sarà uno spazio anche per me, non lo so. Dal mio punto di vista è stato fantastico, è stato fantastico il modo in cui i ragazzi mi hanno accolto.